Eccola qui, è arrivata dentro di questo campo e adesso ci farà vedere il suo lavoro in piano. L'importantissimo è necessario per ginnasticare i cavalli e farli acquisire consapevolezza e personalità e allora godiamocela. Grazie. 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 E avete visto l'incredente e levante di questa volta particolare, ma ancora, ancora, non smettere di stupirci, il vino Kakashi. Non lo senti, vuole sentirlo, vuole sentire l'energia di Palazzo Adriano. Non lo sapete bene, che il vino, se non c'è la carica, non ci fa divertire, non si svela. E allora vai, amici, vai tutti insieme. Guardate, guardate, guardate qua. Sul posteriore, su in alto e insieme avanti. Questa è una delle figure più tipiche della monta minorchina. È spettacolare, è incredibile e soprattutto difficile. Guardate, guardate, guardate. Guardate, guardate, guardate. Grazie